questo è il mio fucile sitex snake 80 volevo un attimino presentarvelo se eventualmente qualcuno decida di acquistarlo è un fucile molto molto potente esce pronto pesca sitex con il doppio elastico io in questo caso alla testata l'ho avanzato e ho lasciato un elastico per il tipo di pesca che faccio io a saraghi mormore orate è già perfetto in questa maniera è un fucile dicevo estremamente potente molto leggero l'ho accessoriato in questa maniera è un fucile che esce dalla sitex pronto pesca e finora mi ha dato molte soddisfazioni un'asta brunita da 7 sempre della sitex ha un'impugnatura che secondo me è eccezionale ha tutto il meccanismo di sgancio d'acciaio inox buon mare a tutti e spero di avervi aiutato nel vostro acquisto sitex snake 80